Quaid è nato a Los Angeles, in California, figlio degli attori Meg Ryan e Dennis Quaid. Ha origini inglesi, polacche, scozzesi e irlandesi Nel 2012 Quaid ha fatto il suo debutto cinematografico nel film distopico post-apocalittico Hunger Games, interpretando il ruolo di Marvel Nella pellicola Marvel è uno dei tanti tributi antagonisti che cercano di eliminare la protagonista Katniss Everdeen, interpretata da Jennifer Lawrence Tale personaggio è particolarmente odiato dai fan della saga perché, nel bel mezzo dell'avventura, uccide Ru, la piccola alleata di Katniss, nella pellicola interpretata da Amanda Stenberg In un'intervista Quaid ha dichiarato di essersi informato riguardo alle reazioni dei fan dopo aver visto la sua interpretazione nel film, mi è stato detto che la gente avrebbe voluto sputarmi addosso per le strade Riprenderà ancora una volta il ruolo di Marvel in un cameo del sequel Hunger Games, La ragazza di fuoco nel 2013 Dopo aver recitato in diversi cortometraggi e in alcuni film, nel 2016 è entrato nel cast della serie televisiva musicale Vinyl, interpretando il ruolo di Clark Marell Nel 2019 debutta come protagonista nella serie TV The Boys, tratta dall'omonima serie a fumetti Quaid risiede a Los Angeles e studia alla Tisch School of the Arts dell'Università di New York Grazie per l'attenzione Iscriviti al Calane Grazie per l'attenzione